Quattro stati europei attraversati in bicicletta, Inghilterra, Francia, Spagna e Italia. Sei università da raggiungere, Oxford, Cambridge, Sorbona, Salamanca, Bologna, Padova. 60 giorni di viaggio dal 21 aprile al 18 giugno. 4.475 chilometri totali da percorrere, nove team di ciclisti, composti ciascuno da tre corridori, un docente, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente e nove staff tecnici di supporto per un totale di 40 persone coinvolte. Tutto è pronto per la Scolares Vagantes, la staffetta che unisce antichi e moderni viandanti in un percorso che attraversa i luoghi del sapere europeo e tocca le sei università più antiche del mondo. Il progetto degli Scolares Vagantes è una delle iniziative in occasione degli 800 anni dell'Università di Padova. Come i clerici Vagantes, studenti girovaghi del basso medioevo che si spostavano in tutta Europa per seguire l'elezione, gli studenti padovani intraprenderanno questo viaggio in bicicletta per portare anche un messaggio sportivo di salute e mobilità sostenibili, attraversando le frontiere degli stati del vecchio continente uniti dalla ricerca di una cultura comune. La staffetta partirà il 21 aprile dall'Università di Oxford verso Cambridge, poi sarà la volta della Sorbona di Parigi. Si passerà per Salamanca per giungere a Bologna, la più antica, e finalmente a Padova il 18 giugno. Grazie a tutti!